E' benissimo, è una persona straordinaria, molto dolce, sensibile, non pensavo che fosse così come noi, pensavo che è anzi molto disponibile ad aiutare, a chiedere quali sono i bisogni, come può essere utile ovviamente nei limiti del possibile, delle sue competenze, ed è stato molto utile per me sapere che da una persona importante ho comunque un appoggio così importante, così serio, avete bevuto un caffè insieme? Sì abbiamo mangiato due pasticcini insieme, l'unica cosa che mi sono sentita di chiedere in questo momento era soltanto se poteva aiutarmi con la tutela dei minori, perché forse l'anello mancante è tutta questa storia, cioè ho proprio bisogno che mi venga dato l'aiuto per proteggere i ragazzini, quelli più piccoli, perché sì sì lui sarà anche in prigione, ma comunque i miei figli hanno vissuto una serie di traumi che in questo momento noi siamo soli, abbiamo bisogno di supporto e di aiuto e sicuramente di poter avere anche la concessione di averli vicino, perché sono tutti 9 a 1 in comunità, quindi magari in questo momento se io riuscissi a starle più vicino, a vivermelo di più sarei anche più attenta alle proprie esigenze, alle proprie... Grazie Elena Niente